Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi Superstar Saga più scagnazze di Bowser Nello scorso video sono arrivato a Todopoli Dopo aver giocato alla sala giochi di Todopoli Mario ha mangiato un fungo strano e si è sentito male E ora Luigi è partito in cerca di una cura Dunque, dobbiamo entrare qui dentro, esatto? Eh sì, mi tocca proprio Ah, non mi piace la faccenda Ohioioioioi Questo sembra quasi, sembrano quasi, sembrano quasi i baffi di Wario Devo romperlo giusto? Ah, devo fare questo, devo fare, ok Ok Ah no, non devo sbagliare, ok Mi serve Tutte quante Questo è blu, eh Ok Questo invece fa più rimbalzi E questo ha ancora di più, immagino, ed è più veloce Oh Oh Nice Vai Grotta sghignazzo, vai Ah, eccoci qua allora Sì, seccaci però, eh Aspetta, fammi salvare che è meglio va Bene rovino e sghignazzo A noi due Ma i nemici o non mi calcolano Eppure non mi hanno visto proprio Qui che succede? Ah, questi cascano Vabbè Immaginavo Questo posto pullula di nemici, eh Ah, mi hanno visto Mi hanno visto, sì Non mi sembra che gliene importi molto Tessera Mario e Luigi Immagino che sia ML Vediamo un po' Oh Sopra ovviamente stava Oddio Scendono un sacco i punti, fratello Ma l'attacco Sale di un bel po' Andiamo Ok, c'è quest'ora Uiash Interessante quello Mi piace Eh, è fatto Qui che succede invece? Ah Immagino dove cremerà anche questo Ah no Ah no Ho capito allora Aspetta Quindi questo risale E poi risale anche quello E io ora devo Salire qui sopra Capito Ma il punto Io devo arrivare in quello verde O quello blu Cioè quello rosso O quello verde Eccolo qua Ok Qual è la fregatura? Ehi ragazzo Ehi ragazzo Baffuto Sono sospeso Che tu sia giunto Fino a qui In città Giro La voce chiosa È diventato un orribile Un mostro spaventoso Perché la gente Deve parlare di quello Che non sa Questa cosa Mi infastidisce Mi fa davvero Infurare Mi lacera All'anima Oh Tu potresti aiutarmi Ragazzo Baffuto Aiutami a liberarmi Della rabbia Che mi brucia dentro Tutto quel che devi fare È evitare le mie fiamme Per 30 secondi Vuoi aiutarmi? Mi tieni compagnia Per liberarmi Dello stress Vuoi devi evitare le fiamme Per 30 secondi Se invece Ne vieni colpito O esci dal bordo Prima che passi Ne 30 secondi Devi ricominciare Tutto da capo Pronto? Quindi Non devo uscire Da questa piattaforma? Ah ok Ma Come Ma mi faceva muovere? Eh Non mi faceva muovere Scusami Non mi fa muovere Accidenti Allora Cominciamo Solo indietro Posso andare Ah Quindi devo muovermi Proprio Per saltare Mentre salto E mentre mi muovo Vabbè ragazzi Allora Però Una volta che capisci Che devi muoverti E saltare Allo stesso tempo Come in tutti I giochi di Mario Tra l'altro Eh Ce l'hai fatta Eh sì Oh grazie Sono riuscito a liberarmi Dallo stress Sento una profonda Sensazione di benessere Grazie Sono contento Che tu ti sia liberato E grazie per avermi Aperto il passaggio Grazie Baffettino Ora puoi andare Grazie di nuovo Doveva solo liberarsi Un po' Dunque Vediamo un po' Che succede Qui Erba esilarante C'è qualche altro Segreto Che devo scoprire Ah un tubo Uh Ah so già dove mi porta Dai Ho trovato Lo sfiori Aiuto Luigi Tutto bene No Todd No per niente Come non ti ricordi Quel che hai fatto Davvero non ricordi Ho saputo Che sei andato Alle rovine Sghignazza Per trovare L'erba esilarante Per Mario L'hai trovata Ah forse ha finito All'ipnosi Erba esilarante Davvero Sei andato Alle pericolose Alle rovine Sghignazza Tutto da solo Luigi Sei incredibilmente Coraggioso Dalle tue parti Sarai sicuramente Un mito Fra l'altro Cos'è questo rumore Minaccioso Potrebbe essere successo Qualcosa all'ambasciata Luigi Non dovresti andare Ad aiutare il povero Mario Quando hai ragione Hai ragione Luigi Ah no Todd Ok Penso fosse Peach La principessa Peach Ciao Qu'è? Bowser Credo che hai sbagliato persona Io sono Ghigno Bowser L'energia della strega Ghignard si è riversata nel re dei Koopa Il corpo è quello di Bowser Malamente il ghigno della strega Non serve la voce ora Ruberò l'intera principessa Peach Mario Vengo a salvarti e poi andremo a rompere le uova Ne spagnerà la strega Ghignarda ancora una volta Mario 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 Luigi Mentre eravate occupati delle vostre faccende è successa una cosa terribile La nostra aspettativa di vita sembra accorciarsi Sua altezza Bowser No la strega Ghignarda No Ghigno Bowser Hai inviato un messaggio Non penserai mica di sconfiggermi così facilmente Bene ti riferirò il messaggio soltanto una volta Ascolta con attenzione Se vuoi che la principessa Peach Ritorni sana e salva Recupera i quattro pezzi di fagiolo stella Quando li avrai recuperati tutti Ti contatterà di nuovo Ah come è potuto accadere Per questa volta ci hanno sconfitti Non c'è niente da fare Per il momento seguiamo l'ordine recuperando i pezzi di fagiolo stella Io conosco a grandi linee le zone in cui sono caduti i differenti pezzi di fagiolo stella Ah non troppo lontano allora Ho segnato le zone in cui sono caduti i pezzi Sarete voi fratelli a raccoglierli tutti per primi O sarò più veloce io Facciamo una gara Le 99 miliardi No le 99 Milioni di miliardi Non lo so Facciamo una gara Tutte le monete fungo saranno mie se vinco Quello è praticamente il prodotto capitelo ordo Che il regno dei funghi ha fatto da qui Da quando ha aperto i battenti fino ad oggi Non penso Ma ha scolacciato Luigi con Una spada fatta di un filo d'erba Signor Mario Signor Luigi Contiamo su di voi Ho l'impressione che troverete subito il fagiolo stella Caluto nel lavar sorriso Ah stava bravio lì Vi consiglio di cercare questo pezzo di fagiolo stella per primo Oggi Sensi di Mastro Tutto sono allerta Allora Direi di recuperare intanto il primo pezzo di fagiolo Cioè Sì Fagiolo stella Recuperiamo il primo Tanto tranquilla sarà la situa qui Dubito che Eh vatti aperto Guarda un po' Eccoli lì Sapevo Oh dunque Questa è la cosa che è piovuta dal cielo E ha colpito i portelloni Sì ne sono sicuro E ora il portellone è rotto È una bella seccatora Già 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 Comunque da frammento scaturisce una luce abbagliante Non so cosa sia Ma per ora mettiamolo nella stiva Salve Eh comunque Salve Ascoltate e vi stupirete Questa nave famosa in tutto il mondo Con il nome di Ridolina Il motivo Trasportiamo la gazzosa Ridolina Ovvio no? Stupiti? Eh Non proprio Più che altro vorrei capire Che cosa stiamo facendo Se stiamo andando Oh Ok Sembrano amichevoli comunque Ma insomma Guarda che prende in largo La nave Ridolina Sono stanco di aspettare Amico mio Sei stanco di aspettare Mi dispiace Ma la nave Mi sa che Non salperà Per un lungo periodo Non si può bere la gazzosa Ridolina Non la bevo Tranquillo Sono Non sto bevendo bevande Da un bel po' Vuoi sapere perché Questa nave si trova nel deserto? Beh Si tratta di questo La nave è affondata Da allora è passato tanto tempo Ficché ad un certo punto Il mare è divenuto deserto E frattempo anche i nostri corpi Si sono trasformati Non ci restano che le ossa Però il fuoco Si a quanto pare Sta nave non mi dispiace Neanche troppo Alla fine Luigi devi capire però Che devi salire anche tu Qui sopra Quando ti dico di salire Ok? No giusto per fartelo capire Capitano Grazie dell'info Io vado A fare quello che devo fare Devo recuperare il primo Pesso Ok Qui si va ancora più giù A quanto pare Salve Per il momento Non ci sono posti vacanti Ripassa più tardi Ah Un altro mini giocos Andiamo Giù allora Ehi tu Per poter entrare Occorre un abbonamento Per ottenere l'abbonamento Devi fare qualche cosa Di utile per questa nave Tipo Dicono che Mozzo grandosso È diventato un enoic Un enoche Ah ciccio Ah ok Ciccione Ok Quindi è diventato Un ciccione Posso entrare a giocare Ora a quanto pare Si Oh yes È libero Un impiego di concetto Come questo Mi fa venire mal di testa Non va per me Infatti Questo è il motivo Per cui gli zotticoni Hanno problemi Con questo lavoro Capo Posso venire io Voi due Avreste intenzione Non avreste intenzione Di lavorare Sì Al dire vero Sono Binky Piacere Se vincete dieci punti Barile Diverratemi ai protetti Vincete voi Vinco io Vi va una sfida Barile Come si fa Si devono allineare I barile Dello stesso colore In orizzontale E in verticale Vi dico come fare Ma poi dovete provarci voi Mario Vai a destra A sinistra Con la pulsante Rappiù Luigi Tu vai su E giù Fate dieci passi A testa Ecco come si spostano I barile Divertentissimo Tieni premuto A E usa la pulsantiera Per spostare i barili In su e in giù Tieni premuto A E usa la pulsantiera Per spostare i barili A sinistra A destra Se preferisci In alternativa Posare pada scorrevole Mario sposta i barili Premi A E la pulsantiera Prova Luigi Ora Tieni premuto A E la pulsantiera Vai Sono un bravo insegnante Se vincete dieci punti Barile Diverratemi ai protetti Vincete voi Vincoglio Aspare We are on a speeda Assay Grazie a tutti. 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 Niente, alla fine mi fa proseguire comunque. Cioè, sono arrivato a 9. Stavo per mettere il decimo. Mi ha detto, vabbè, dai, vai avanti comunque. E si vede che è proprio arrivato a un punto che anche lui ha detto, beh, se non ce la fai proprio. Cioè, ragazzi, è impossibile in quel tempo limite fare tanti punti. Io vorrei vedere se qualcuno mi ha fatto un record. Sì, vi ho aiutato. Sì, vi ho aiutato. Oh, l'abbonamento. Perfetto. Beh, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo andrò a recuperare il pezzo stella. Magari ci sarà anche una lotta da fare, non ne ho idea. Magari c'è, magari no. Insomma, altre boss fight sarebbero interessanti. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito in descrizione. Trovate come sempre tutti quanti i link utili. Ci vediamo. Alla prossima. Ciao. Ciao.